Il canottaggio, ottobre, è il mese della prevenzione rosa e noi come Club Canottieri Rogero Di Lauria abbiamo voluto cogliere l'attimo e parlare anche di questo. Come società remiera noi abbiamo aderito al progetto della Federazione Italiana Canottaggio per il sport e terapia. È molto importante che la disciplina del canottaggio possa fare prevenzione e possa fare riabilitazione. Abbiamo con noi avuto la medicina palermitana a sostenerci affinché possa aderire quanta più gente possibile e possa trovare benessere tramite questa disciplina. Sicuramente, come avviene in altre regioni d'Italia, il medico dovrebbe poter prescrivere l'attività remiera per far sì che la donna trovi sollievo dalla partecipazione a questo sport meraviglioso.